I carabinieri della Compagnia di Vasto hanno arrestato quattro persone per traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito di un'indagine parallela a quella per l'omicidio di Albina Paganelli, la pensionata uccisa a coltellate nella notte tra il 13 e il 14 agosto scorsi nella sua abitazione di San Salvo. In carcere sono finiti Giovanni Giuliano, 28 anni, Libero Carlo, 35, Ciro Manna, 45, tutti di San Salvo. Con loro è stato arrestato anche Vincenzo Barra, 45 anni, di San Severo. L'indagine, coordinata dai PM Giancarlo Ciani ed Enrica Medori, ha permesso di rintracciare i quattro arrestati utilizzando le intercettazioni telefoniche. Attraverso l'indagine dei carabinieri sono stati individuati anche i canali di traffico di stupefacenti, in particolare eroina, da San Severo all'area del Vastese attraverso lo snodo di San Salvo. Quello di oggi, ha commentato il capitano Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, è un segnale inequivocabile, una risposta ferma delle forze dell'ordine e della procura contro il mercato della droga in questo territorio. Gli investigatori, infine, non hanno escluso che possano esserci ulteriori sviluppi nelle indagini.